Ehi, Vito, ma se che tu la peghi come uno fisa? Non ti preoccupare, ci faccio un'offerta che lui non può rifiutare, non può. Se l'occhio non mi ha ingannato, ci stanno 100 dollari sotto il cappello, eh? Eh, che finisce male, pure bocca a piello in affronto. Eh, sogno accolto di moneta, che vuole? Chi se l'anticipo, il resto viene appreso, ma la stessa è un'antricchia di tempo. Fra tre o quattro mesi vengo io da così, lo facesse per me. Avevo la faccia tosta a tenute, manca. Se tu fosse napoletano, ti pigliasse con me, a servizio, eh? Se uno è che li piccio a te, cade in un pilo di un tuo stomaco. Il resto però me lo porti prima stasera. Grazie, buon caffè. I 500 scudi me li porti a casa mia. E per stavolta non te taglia la faccia. Prima di setta a casa mia. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.